83 sanzioni e 20 rimozioni di auto in sosta vietata. E questo è il bilancio dell'attività effettuata dalla Polizia Locale a Taranto la scorsa notte a Rione dei Tamburi. Operazione congiunta con il personale di Chima Ambiente Amiu che ha effettuato il previsto spazzamento meccanizzato notturno periodico in quella zona, in particolare nella centralissima via Orsini. L'intervento è stato effettuato con le spazzatrici meccaniche. Ricordiamo che questo tipo di lavaggio, svolto da mezzi specializzati e da strumentazioni specifiche, produce i suoi risultati completi quando le strade sono effettivamente libere dalle automobili. I divieti di sosta mensili però non sempre vengono rispettati e per questo si rende necessario l'intervento degli agenti della Polizia Locale. Una cattiva abitudine da parte di alcuni che finisce col penalizzare la cittadinanza residente. I veicoli parcheggiati infatti impediscono il normale svolgimento delle operazioni di pulizia e creano danno all'igiene urbana. Gli operatori di Chimambiente hanno provveduto allo spazzamento manuale per liberare i marciapieti da rifiuti sparsi ovunque. Dall'azienda in house del Comune di Taranto e dalla Polizia Locale viene lanciato un appello a tutti i cittadini affinché i divieti di sosta vengano rispettati sempre. E come previsto, dalla mezzanotte alle 6 del mattino per tutta la fascia oraria non è consentito parcheggiare la propria auto dopo il passaggio dei mezzi di pulizia. Se questo avviene prima dell'orario indicato, della cartellonistica verticale. Una cultura della legalità che passa anche e soprattutto dall'igiene e dal decoro urbano, fortemente promossa dall'amministrazione comunale.